Delle frizioni del governo sul super bonus, teme dei contraccolpi sulla coalizione? No, assolutamente, questa coalizione è una coalizione molto coesa, è abituata a governare in molte regioni, in molti comuni, per cui la sintesi si trova sempre. Il problema del super bonus è un problema, visto i costi che pagano tutti i cittadini italiani, alla faccia che doveva essere gratis. Non ne facciamo mai una questione se di Fratelli d'Italia, se di Forza Italia, se della Lega, ma quello che abbiamo sempre pensato è che dobbiamo mettere gli uomini migliori, mettere al centro il merito e la capacità per chi deve svolgere un ruolo così importante come il Presidente di una regione così importante come il Veneto. Quindi non è mai una questione di squadra, ma una questione di uomini, uomini intese donne e uomini naturalmente. Grazie a tutti.